Proteste dai progetti case del territorio aquilano per la manutenzione, ma soprattutto per l'erba alta che ai primi pollini riscatena le allergie di molte persone, oltre al decoro che alcune abitazioni dovrebbero avere ovviamente. Dopo le proteste a Sant'Antonio e un trattore mandato subito dopo per tagliare l'erba, divenuta ormai altissima, l'assessore Emanuele Imprudente, assessore comunale all'ambiente, assicura che si sta procedendo e via via si passerà il rassegna per tutti i progetti case. In alcuni le situazioni peggiori, ad esempio a Paganica, dove tante lamentele ci sono state nei giorni scorsi, anche per la presenza di pecore proprio nei giardini vicino al parco giochi dei più piccoli e sotto le finestre degli inquilini. A Pagliari di Sassa la situazione non è migliore come si vede dalle immagini, erba alta, panchine che ormai non sono utilizzabili, ma soprattutto rimane in bella vista quella palazzina ormai disabitata dove prese fuoco e che negli anni non è mai stata riparata. Ma altre proteste arrivano anche dai progetti case di Coppito, erba alta e soprattutto in alcune piastre c'è il buio. Alcuni genitori chiedono anche di tagliare l'erba nelle scuole comunali per evitare allergie, ma soprattutto per l'igiene dei propri bambini. Intanto l'assessore Liris interviene con una comunicazione di servizio per quanto riguarda il progetto case di Coppito 3. Sono giunte infatti da lì diverse segnalazioni circa problemi riguardanti il segnale TV. L'inconveniente potrebbe essere riconducibile all'antenna team di telefonia mobile recentemente realizzata in zona, spiega l'assessore. Gli uffici però sono già attivi per effettuare tutte le verifiche e ripristinare il segnale.